Presidente Zachilli, siamo tutti in attesa di vedere l'esito degli scavi di Vitruvio per vedere se finalmente quegli reperti che sono venuti alla luce appartengono alla celebre basilica. Vitruvio è stato sempre nella cresta dell'onda quest'anno grazie all'attività del Centro Studi Vitruviani e sabato prossimo c'è una nuova iniziativa. Di che cosa si tratta? Sabato prossimo presenteremmo il primo esito di un lavoro di ricerca finanziato dal Centro Studi Vitruviani e dall'Università degli Studi di Urbino per una carta archeologica di Fanon Fortune. Il Centro Studi aveva dedicato anche in passato attività per la predisposizione di una carta archeologica ma abbiamo ripreso l'iniziativa per completare questo lavoro. È una carta archeologica ovviamente che parte dalla ricerca dei dati d'archivio, dalla conoscenza e noi abbiamo incaricato una persona che ha lavorato più di un anno e mezzo a questa ricerca e presentiamo i primi risultati. Questi dati archeologici, che sono dati storici, archivistici, documentazioni varie, vengono collocati su una carta GIS, cioè georeferenziata. Il progetto di Fano si avvale di un modello nuovo messo a punto dal Ministero della Cultura, in particolare dall'Istituto di Archeologia ed è credo la prima applicazione di questo modello o template come lo chiamano gli informatici. Ed è su un software open source, in modo che può essere poi utilizzato facilmente da tutti. L'obiettivo è di arrivare, continuando il lavoro, a dare una carta completa, carta archeologica completa della città di Fano, di Fano in Fortune, che ovviamente sarà a disposizione degli studiosi, ma anche sarà disponibile per le funzioni di tutela proprie della soprintendenza e anche per le attività di gestione del suolo, delle aree pubbliche, delle strade, ma anche delle aree private, del centro storico, quando si facessero dei lavori nel sottosuolo, in modo che tutti sanno dove stanno, diciamo così, i reperti romani nella città. Ovviamente fino adesso abbiamo acquisito tutto il conosciuto, tutto il noto. Poi la carta andrà implementata di tutte le informazioni che via via verranno e anche degli studi strumentali, di rilievi, che si possono fare nel corso del tempo.